Torniamo alle fasi di apprendimento. Ricordi, c'era la preparazione e abbiamo visto nella preparazione che cosa? Che noi possiamo visualizzare i colori dell'arcobaleno e fare lo switch. Cos'è lo switch? Immagina, non so se sei presente la tomografia. La tomografia è un esame che va a testare quali sono le aree cerebrali coinvolte in alcuni processi. Quando parlo attivo un'area cerebrale, l'area di Broca. Quando provo un'emozione attivo altri processi. Quando mi muovo attivo altri processi a livello corticale. Quanto bello sarebbe, prima di iniziare a fare qualcosa, essere super concentrati e avere tutte le aree del cervello belle e attive. Qui c'è un punto, si chiama il punto Karate, dalla mostra del Karate, che quando vai a stimolare, permette, stimolato, di attivare tutte le varie aree cerebrali. Si chiama switch, lo faccio così. E non fatelo prima di dormire, mi raccomando. Questo ti passa qualche secondo, ti pone immediatamente in uno stato di presenza, di attenzione. E prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, questo è importante. Prima di qualsiasi cosa, perché seminare nell'asfalto è difficile che attecchisca qualcosa. È molto più facile attecchisca qualcosa quando il terreno è concimato, arato, dissodato e innaffiato. Buono switch! Ciao!